Se possiedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4 potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre se volete potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games or Cover The Gamer 12 scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games e stende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti Orchetti sono Orcu Verde e in questo video volevo informarvi che poco fa Epic Games ha confermato una nuova modalità a tempo limitato che presto sarà disponibile nella modalità battaglia reale di Fortnite. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video condividete il video è molto importante per aiutarmi a crescere poi lasciate un bel pollicione in su bomba e seguitemi sui social seguitemi su almeno uno dei miei social. Per essere sempre avvisati appena carico un video sul canale visto che spesso YouTube non invia le notifiche dei video. Potete seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Se in questo momento vi recate sulle notizie nella modalità battaglia reale di Fortnite ci sarà scritto presto disponibile modalità a tempo limitato il pavimento è lava e sotto raggiungi le alture o costruisci sopra la lava che sta invadendo l'isola. Chissà come sarà questa nuova modalità a tempo limitato secondo me sarà carina da poterci giocare sicuramente questa nuova modalità a tempo limitato il pavimento è lava verrà rilasciata in uno dei giorni di questa settimana con l'arrivo del nuovo aggiornamento della nuova patch oppure tramite l'aggiornamento dei contenuti tramite server. Secondo me il pavimento è lava sarà una modalità a tempo limitato carina fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti sotto questo video quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su un commento iscrivetevi al canale condividete il video poi seguitemi sui social trovate tutti i link nei miei social nella descrizione e da un recupero di Twitter ci vediamo a un prossimo video bella! Ciao!